Ciao a tutti ragazzi, continua l'autolesionismo con i telefoni più scomodi da portare al mare e tocca questa volta allo Xiaomi Mi Mix innanzitutto però volevo farvi vedere questa dotazione di serie che è veramente molto carina voi penserete è la classica dotazione che troviamo in tutti gli smartphone no signori, andiamola a vedere bene ed eccoci con la confezione nera, 128GB a indicare che questo è un modello con 4GB di RAM andiamo davanti per vedere Mix Design by Mi andiamo a sfilare il cartoncino eccolo qua ragazzi, tolto il cartoncino abbiamo un logo Mi con custodia a libro con questo movimento qua ad aprire come se stessimo sfogliando un libro mi allontano un attimo dalla videocamera per mostrarvi l'apertura non è la classica apertura che siamo abituati a vedere su tutti gli smartphone vedete come quando andate a comprare un gioiello viene mostrato questo tipo di apertura tutto diviso per sezioni troveremo ovviamente lo smartphone alloggiato qua comodamente con le pellicole che io ho rimosso troveremo una cover in similpelle guardate anche voi con questo gioco qua di trama che ricorda ovviamente la pelle non so se è vera pelle, non credo ragazzi si è regrafata Mix e dentro ha un bellissimo velluto veramente morbido, il telefono dovrebbe starci molto bene l'unica cosa che magari crea un po' di bordo ma poi lo vedremo nella recensione completa l'ultimo scompartimento, vado ad estrarlo vede ovviamente il caricatore da parete un caricatore rapido, ovviamente non va con le prese italiane ma se lo comprirete su shop che importano avrete in omaggio anche l'adattatore per caricare il telefono nelle prese italiane dall'altra parte troviamo il classico cavetto di connessione al computer USB Type-C quindi non micro USB ultima parte da vedere è la manualistica inutile ovviamente ci sono due foglie in tutto e la spilletta per estrarre il vano della doppia SIM non c'è altro, bellissima questa dotazione ma andiamo anche a vedere il telefono che si rianima con il doppio tap si sblocca in maniera velocissima e qui ho installato il tema di Samsung un po' per ricordare i dispositivi di ultima generazione di Samsung qui si parla di MIUI vi andiamo subito a vedere le informazioni sul dispositivo qui vi fa vedere la panoramica risoluzione del display 2040x1080 schermo da 6.4 pollici Snapdragon 821 quad core Android 7.0 fotocamera principale da 16 megapixel l'anteriore è da 5 batteria veramente portentosa 4.400 mAh vi faccio anche vedere dei 128GB disponibili a disposizione 115 ne saltano solo diciamo 10 per il sistema operativo più 3 che ho usato io per installare Asphalt e qualche altra applicazione importante bellissimo il posteriore nero specchiato qua ritroviamo la scritta che abbiamo visto sulla scatola design by me sblocco con l'impronta quindi il dito dovrà arrivare fin qua fotocamera principale da 16 dual led flash la fotocamera anteriore è messa qua in basso in angolo perché? perché qua su non c'è praticamente nulla tutto display vedete non c'è la griglia per parlare con per ascoltare l'interlocutore l'audio viene indotto su tutta la superficie dello smartphone lo vedremo poi nella recensione completa tasti ovviamente multitasking home e indietro possono essere scambiati nell'ordine c'è anche il led di notifica qua in basso molto piccolo ma si vede costruito benissimo questo smartphone è veramente bello è un lingottino di tecnologia secondo me è un telefono molto molto innovativo bilanciare volume accensione blocco sblocco carrellino per la doppia sì ma la memoria non è espandibile esiste anche nella versione 6 256 giga ovviamente costa un po' di più esiste anche nella versione limited con le rifiniture in oro la velocità dello smartphone mi sembra molto molto buona siamo arrivati alla MIUI 7.7.20 quindi del 20 luglio a livello di sviluppo questa è la MIUI tradotta interamente in italiano il telefono è già stato sbloccato e flashato con la ROM apposita interfaccia MIUI ovviamente la conosciamo un po' tutti l'apertura dei vari social è piuttosto veloce guardate anche voi non ha alcun tipo di problema poi nella recensione completa vedremo come si comporta questo Xiaomi Mi Mix questo padellone da 6.4 pollici se avete domande ragazzi sono qui fatemele pure altrimenti ci sentiamo per la recensione completa di questo Xiaomi ciao non vedo niente completamente niente